È caduto dal tetto di un'abitazione mentre stava lavorando. Un uomo di 42 anni di origine rumene è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto poco dopo le 15 a Santa Flora, ad Arezzo. L'uomo stava lavorando al rifacimento della copertura dell'edificio, quando è scivolato ed è rovinosamente caduto a terra. Sul posto sono accorse automediche e ambulanza. I sanitari del 118 hanno attivato l'elisoccorso Pegaso, che lo ha trasportato all'ospedale Lescotte di Siena in codice rosso. Il 42enne ha riportato un trauma turacico penetrante. Della vicenda si stanno occupando gli agenti della polizia e il PISL della ASL 8. Secondo i primi accertamenti degli inquirenti, pare che l'uomo non avesse indossato nessun tipo di protezione. La polizia si stanno occupando gli agenti della polizia e la polizia si stanno occupando gli agenti della polizia. Grazie per la visione!